Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida BMW 220D Sport Cabrio Automatica. Vettura con motore 2.0 4 cilindri Euro 6 Turbo Diesel, immatricolata nell'anno 2015 con 67.000 km di percorsi, originali tagli andati presso officina autorizzata BMW, appartenuta ad un unico proprietario, mai sinistrata, allestita in versione Sport, fari full LED, ruote in lega diamantate bicolore con diamantatura appena rifatta, quando erano leggermente rigate quindi abbiamo fatto rifare la diamantatura di tutti e quattro i cerchi, sensori di parcheggio, telecamera per retromarcia, uno splendido colore champagne metallizzato con capote in color tabacco, cangiante, veramente molto bella. Gli interni sono sportivi, in pelle nera, naturalmente tenuti in modo indiscutibile, anche i sedili posteriori sono letteralmente perfetti, volante sportivo tre razze multifunzione, con pedal per il cambio, eccoli qua, cruise control, poi abbiamo il sistema di antisalto corsia e assistenza alla frenata di emergenza. Ecco i 67.000 km percorsi, navigazione BMW Professional, quella grande, radio CDMP3, clima automatico B-Zona. Ecco il cambio automatico con tutte le possibili regolazioni di erogazione e anche di potenza da parte del motore, tastiera per guidare le nostre funzioni, quattro alzacristalli elettrici e specchi ripiegabili elettricamente. Questa vettura è disponibile in pronta consegna, viene garantita per 12 mesi con possibilità di estensione, vi aspetto gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. Grazie.